Racconti disumani, la prima nazionale dello spettacolo, che è una coproduzione del Teatro Stabile d'Abruzzo e di Stefano Francioni Produzioni, sarà l'Aquila ridotto del Teatro Comunale giovedì 17 febbraio alle 21 e replica venerdì alle 17.30. Racconti disumani è tratto dai racconti di Frank Kafka, una relazione per un'accademia in Latana, ed è uno spettacolo di Alessandro Gasman, con protagonista Giorgio Pasotti, direttore del TSA. Due straordinari artisti, come Gasman e Pasotti, si misurano con le parole di Kafka. Due racconti disumani per parlare, Pasotti interpretando e Gasman dirigendo, agli uomini degli uomini. Uno spettacolo che parla di libertà, raccontano Gasman e Pasotti a rete 8, che ha incontrato i protagonisti durante le prove. Per Gasman si tratta di un ritorno in città nel 2009, anno del terremoto. Era lui il direttore artistico del Teatro. Tornerà all'Aquila, lo emoziona sempre. È uno spettacolo che parla di libertà, in realtà. Parla di libertà perdute e di libertà dimenticate, in qualche modo. E in un momento drammatico come quello che tutti quanti da oltre due anni stiamo vivendo diventa ancora più attuale. Insomma, Kafka, come tutti i grandissimi autori, rimarrà sempre attuale. Però questi due testi che ho scelto e ai quali ho voluto dare questo titolo, appunto, racconti disumani, ci racconta di quanto l'umanità in alcuni casi possa essere meno umana delle altre specie viventi su questo pianeta. L'Aquila mi emoziona moltissimo perché quando ero direttore artistico qui ci fu il terremoto. E quindi i miei ricordi sono bellissimi per i lavori belli che abbiamo fatto, un bellissimo teatro che come sapete ancora non è aperto e ci auguriamo che possa aprire il prima possibile. Mi sembra che sia passato già abbastanza tempo. E poi chiaramente il dramma, vissuto proprio in diretta perché poi avevamo chiaramente i macchinisti aquilani con noi, tutti i tecnici e tutto il TSA che ha subito a chi perdite personali, chi la distruzione della propria casa e sono state ore terribili e che non dimenticherò chiaramente mai. È uno spettacolo sulla libertà e sulla autoreclusione che trovo entrambe temi molto attuali. Per reclusione intendo quella sorta di sicurezza apparente che tutti noi ormai vuoi per il Covid, vuoi un po' per quello che accade tutti i giorni attorno a noi. Ci stiamo autochiudendo, in casa, siamo sereni e molto tranquilli quando siamo dentro le mura domestiche, ci chiudiamo a chiave e pensiamo che tutto sommato lì qualsiasi cosa venga soddisfatta, la tranquillità, la serenità. Mentre questa è una forma di autoreclusione, la libertà sta di fuori, sta all'esterno di quattro mura domestiche per quanto grandi o piccole possano essere. Per trattati in modo esclusivamente kafkiano, quindi molto originale.